Ciao ragazzi e bentrovati in questa seconda parte di video dove vedremo come si smonta completamente una R per andare a sostituire tutti i pezzi che abbiamo visto nella prima parte. Cominciamo! Prima di procedere allo smontaggio completo della piattaforma R, volevo vedere con voi due cose velocissime. La prima, come si comporta questo scatto, quindi analizzare le fasi di scatto di questo gruppo originale. La seconda, pesarlo per avere poi un confronto reale con quello che andremo a montare più tardi. Tutte le prove a fuoco relative alle modifiche che faremo le troverete sul mio canale Instagram prossimamente. Ok, vediamo come si comporta lo scatto originale. Abbiamo una precorsa con qualche piccolo impuntamento. E' un reset molto netto, vedete gli impuntamenti che abbiamo sullo scatto, pressione costante. Abbiamo questi due impuntamenti, uno scatto comunque dolce ma non fluidissimo. Il riaggancio invece è comunque già buono, molto secco, molto netto. Ok, procediamo quindi alla pesata dello scatto originale. 1,937 Facciamone un'altra 1,906 Per finire 1,793 Quindi abbiamo una media di 1,879 Adesso cominciamo con lo smontaggio. Prima cosa verifichiamo l'arma, cosa che abbiamo già fatto. Caricatore non inserito, camera di cartuccia vuota, colpo di prova già fatto precedentemente ma per scrupolo meglio sempre farlo una volta in più. Cominciamo a togliere il calciolo, quindi lo portiamo in battuta verso il limite estremo, portiamo fino in fondo lo sgancio e a questo punto sfidiamo il calciolo. Cominciamo con disassemblare l'upper e il lower, quindi dovremo premere fuori queste due spine. La prima ci permetterà di fare questo effetto bascula sul primo perno che è sfilato anch'esso Devo farmi, devo aiutarmi Ok Ok Che una volta sfilato come vi dicevo mi darà la possibilità di andare ad aprire e a dividere il fucile in due pezzi. Cominciamo con lo smontaggio del gruppo di scatto della sicura, quindi per prima cosa dobbiamo svitare la vite che troviamo all'interno dell'impugnatura Ok Una volta sfilata completamente la vite Dobbiamo sfilare l'impugnatura Attenzione che in questo punto dell'impugnatura troviamo questa molla che è quella che spinge il perno Che permetterà alla sicura di rimanere nella posizione appunto di sicura o libera Questo è il perno che interviene a fare da selettore sulla posizione della sicura Quindi mettiamo da parte questi pezzi A questo punto come vedete la sicura è libera di muoversi e per sfilarla dovremo portare il cane sulla posizione di armato e a questo punto rimarremo con la sicura in mano Procediamo quindi allo smontaggio del gruppo di scatto In questo caso dovremo procedere con lo sfilare questi due pin che tengono in sede il pacchetto di scatto Ok Come possiamo vedere questo pacchetto di scatto è composto da due anzi tre elementi Eccoli qua Che sono tenuti assieme da questi due perni Caratteristica che non avrà il pacchetto di scatto che invece andremo a montare poi Procediamo quindi con lo smontaggio del ponticello In questo caso dovremo sfilare il perno posteriore per prima cosa Quindi Valgo della facoltà del mio assistente Per tenere Per tenere fermo Il lower Ok Il perno è stato sfilato La spina Quindi a questo punto dobbiamo solamente procedere allo smontaggio Del perno anteriore che tramite una molla Tiene in sede La parte anteriore del ponticello Dovremo solamente premere questo pin E sfilare il ponticello Vediamo se riesco a mostrarvelo Ok Eccolo qua Vedete che all'interno del ponticello Troviamo questo pin con la relativa molla trattenuta da una piccola spina Quindi attenzione non smontate la spina ma solamente premete questo pin e sfilate il ponticello Procediamo quindi allo smontaggio del tasto dello sgancio caricatore Così da poter andare ad applicare quello maggiorato In questo caso dovremo premere fino a fondo il tasto e sfilare quindi il leveraggio che interagisce sul caricatore In questa maniera Premo verso l'esterno e a questo punto svito Ok A questo punto uscirà la molla ed il tasto originale del caricatore Dall'altra parte troveremo il blocco che va ad interagire sul caricatore A questo punto procediamo con lo smontaggio del recall system per poterlo sostituire Dovremmo premere in giù questo piccolo perno Così da poter liberare la molla Eccola qua Che poi sostituiremo completamente Direi che la parte del lower è completamente smontata E possiamo procedere al rimontaggio di tutti i nuovi componenti Quindi partiamo dal tasto dello sgancio caricatore Che monteremo nella sua versione maggiorata Basterà quindi inserire il leveraggio La molla E il blocchetto anteriore Che dovremo avvitare in questo caso Ok In questa maniera Fino a quando possibile Dopodiché Come prima spingiamo a fondo corsa Il tasto e cominciamo ad avvitare Fino ad arrivare a filo Del tasto appunto A questo punto con il perno a filo del tasto Possiamo andare ad applicare La parte maggiorata dello sgancio Perfetto Sgancio caricatore Assemblato Cominciamo a rimontare a questo punto direi il ponticello Il nuovo ponticello Eccolo qua Questo è il nuovo ponticello che viene fornito completo di Vitina a brugola Della sua chiave E di un nuovo pin passante A questo punto dovremo Nella parte anteriore Fissare il nuovo Il nuovo pin Perfetto Ora che abbiamo montato Il pin posteriore Procediamo con il montaggio del grano Nella parte anteriore Ok Perfetto Ponticello montato A questo punto direi di procedere con lo scatto Che a differenza di quello che abbiamo smontato prima Come dicevamo Questo è un drop in Quindi andrà inserito direttamente all'interno Dell'alloggiamento Ci saranno due viti di regolazione Che sono queste due viti qui Che andranno Una volta che lo abbiamo fissato Tarate per portare in battuta Il gruppo di scatto sul telaio Sul fusto Ma lo vedremo poi Intanto preoccupiamoci di inserire i perni Per tenere in bloccaggio lo scatto Appunto In questo caso utilizziamo i perni anti-walk Che abbiamo descritto l'altra volta Che sono forniti in questa maniera Avremo i due perni Con relative ai viti di bloccaggio E una testina fatta a punta Che serve in questo caso Per poter Inserire il perno Senza forzare Sulle molle Ok In questa maniera Dopodiché svitiamo La testina La riavvitiamo Sull'altro perno E di nuovo andiamo ad inserirla In questa maniera Anche qui sfiliamo Anche qui sfiliamo La testa che ci è servita da invito Perfetto La mettiamo da una parte E avvitiamo Le due nuove viti Che sono già previste di frena filetto Procediamo con il serraggio Quindi Dobbiamo utilizzare Dobbiamo utilizzare due chiavi a brugola Una per tenere ferma la parte a destra E una per serrare quella a sinistra o viceversa Ok Perfetto Bene Lo scatto è montato A questo punto Come dicevamo prima Dobbiamo portare in battuta I due grani che troviamo Internamente allo scatto Al gruppo di scatto Basterà spostare leggermente Le molle Lateralmente Per consentire L'inserimento della chiave Sia da una parte Che dall'altra Ok Perfetto Scatto bloccato Benissimo Procediamo quindi All'inserimento della sicura In questo caso Monteremo la sicura A 45 gradi Ambidestra Quindi per prima cosa Procediamo con lo smontaggio Della parte esterna Perfetto Quasi perfetto Ok E all'inserimento Della sicura Quindi armiamo il cane Ok In questa maniera A questo punto Seguiamo l'antisbaglio E inseriamo L'altra parte Della sicura E quindi La vite Di fermo Ok Una volta inserita La sicura Andiamo ad inserire Il perno Che prima abbiamo sfilato Che va Ad attivare Il selettore Ok In questa maniera Ora dovremo reinserire La vite All'interno del fusto E riavvitarla Ok A questo punto Impugnatura rimontata Sicura Inserita E funzionante Procediamo quindi Al montaggio Del sistema Del recoil system Quindi Lo inseriamo Con la parte Con questa parte Verso L'estremità Del tubo Dobbiamo premere In giù Anche in questo caso Il dentino Che abbiamo visto prima Che abbiamo premuto Durante La fase di Estrazione Arriviamo a questo punto Anzi Prima di passare All'upper Montiamo Di nuovo Il nostro sgancio Quindi anche in questo caso Premiamo Verso l'esterno La leva Fino a fondo corsa E riportiamo Il nostro calcio In posizione Passiamo quindi Alla parte Dell'upper Sfiliamo Tutto quanto Il blocco Otturatore Con il relativo Manettino D'armamento Eccolo qua Che sostituiremo Con questa versione Che è quella Come abbiamo visto Nello scorso video Maggiorata Quindi Reinseriamo Il manettino All'interno Dell'apposito Scanso Ok Reinfiliamo Il nostro Gruppo Otturatore E portiamo In battuta Procediamo ora Allo smontaggio E al rimontaggio Del compensatore Per prima cosa Zaccate Dobbiamo Scaldare Con Con il phon Ad alte temperature Il compensatore In questa zona Per poter Allentare Il freno a filetti Che è montato Bella pulitina E possiamo Procedere Al rimontaggio Del nuovo Compensatore Un attimo Prima di arrivare In fondo Aggiungiamo Una goccia Di freno a filetti Ok E a questo punto Andiamo In serraggio Con il foro Dell'antimpennamento Come dicevamo Nello scorso video Nella parte superiore Ok Perfetto Compensatore Montato A questo punto Dobbiamo montare I blocchetti Direi Aggiuntivi Sui nostri Sui fori M-Lock Presenti Sulla nostra Astina Ok Provo la magia Senza smontare Tutta l'astina In realtà Sono 5 viti Voglio provare A montarlo In questa maniera Non ci riuscirò mai Ma Bisogna provare Invece Andate ragazzi Adesso Inserisco Nella stessa maniera Praticamente Ho dato un mezzo giro Eccola qua Alla piastrina Giusto da poterla Inserire Poi l'ho ruotata All'interno Ho tolto la vite E tenendola con il dito Vado a reinserire La vite Grande mago Ok Allentiamo un po' Per regolare La posizione Che più ci piace Ok E a questo punto Procediamo Con il serraggio Vi ricordo Che il sistema Con cui ho montato Questo accessorio Non è Propriamente Quello giusto Bisognerebbe Invece andare A svitare Queste 4 viti Di ritenzione E andare ad allentare Questa vite di tenuta Sfilare l'astina Montare Il sistema Dove volete Nei fori predisposti E poi rimontare Quindi reinfilare L'astina Avvitare Le 4 viti Appoggiarle Serrare questa vite E poi andare A tirare Le altre Le ultime 4 Procedo anche Con il montaggio Della seconda Slita rail Ok Perfetto Rail montati Molto bene A questo punto Possiamo riassemblare Upper e lower Quindi Per prima cosa Dobbiamo Premere in fuori I nostri Parni passanti Che sono quelli Che tengono Accoppiato L'upper e il lower Come abbiamo visto prima Quello anteriore E quello posteriore Riprendiamo in mano Appoggio Riprendiamo in mano Il gruppo Upper e canna Andiamo in appoggio In questo punto Facendo combaciare I fori E procediamo All'inserimento Del nostro perno Vedete A questo punto Possiamo chiudere E portare In chiusura Anche il secondo perno Ok ragazzi Fucile Completamente rimontato Con tutti gli accessori Che abbiamo visto Nel video precedente Anzi vi ricordo Che per chi fosse interessato Ad acquistare Questi accessori Con un prezzo Differente Qui sotto in descrizione Trovate tutti I riferimenti Per Vi ricordo anche Di iscrivervi al canale Perché prossimamente Vedremo altri video Tra cui Come montare l'ottica Tararla Eccetera eccetera Prima di arrivare Alle conclusioni Voglio fare due cose L'analisi delle fasi Di scatto Come abbiamo fatto prima Per vedere la differenza Tra questo pacchetto di scatto E quello originale E la pesata Dello scatto Per vedere Anche in termini di peso Se c'è una variazione Cominciamo subito Ok analizziamo quindi Le fasi di scatto Per vederne Le differenze Rispetto a prima Ok Allora Come potete vedere Rispetto a prima Abbiamo perso Gli impuntamenti Quindi Lo scatto è leggermente Più leggero Dopo avremo conferma Dalla pesata Forse è dato anche Dalla forma Del grilletto stesso Questa cosa Ma la cosa che cambia Sostanzialmente Come vedete È il fatto che La corsa È molto più pulita E senza impuntamenti È anche molto più corta Il riaggancio Anche È un attimino più corto Molto preciso Anche in questo caso Quindi Abbiamo un'azione di scatto Molto più contenuta E netta Senza nessun impuntamento Vediamo ora Il peso di scatto Ok Procediamo con Le prove di pesata Un chilo 8,17 Un chilo 7,16 Un chilo 7,37 Quindi abbiamo Un peso medio Di un chilo 7,50 Bene ragazzi Avete visto Che lo scatto È assolutamente migliorato Non tanto In termini di peso Perché bene o male Siamo lì Ma come funzionamento Abbiamo uno scatto Molto più netto Sia in sgancio Che in riaggancio E più corto Senza impuntamenti Quindi assolutamente migliore Il fatto del grilletto dritto Poi ci aiuta A percepire Un peso differente In quanto Riusciamo a lavorare Nella parte più inferiore Anche grazie Al fatto che Il ponticello Essendo più largo Ci permette di stare Più in basso Ponticello Che ci aiuta Anche nella fase Di impugnatura Dandoci Grazie anche All'inclinazione Di questo tipo Di impugnatura Ci dà un buon sostegno Sul dito medio E Anche per quanto riguarda Il manettino Assolutamente Cosa gradita Diciamo Nel senso che Oltre ad avere Molta più Superficie Su cui ancorarci Nel momento In cui andiamo a tirare Anche lavorando Da uno solo Dei due lati Riusciamo ad avere Molta più presa E molta più forza Soprattutto Perché Risulta avere Una superficie Molto maggiore Per quanto riguarda Lo sgancio maggiorato Iden con patate Nel senso Anche qui Abbiamo una superficie Maggiore Quindi male non fa Anzi ci aiuterà Sicuramente Le piastrine Aggiuntive Per quanto riguarda La slitta rail Sono sicuramente Un vantaggio Nel momento in cui Non vogliamo Spendere un capitale Per cambiare La nostra stina Per il compensatore Invece Dobbiamo aspettare Le provo a fuoco Che farò E pubblicherò Sul mio canale Instagram Quindi iscriviti Sia qui Che per te È gratuito Che sul nostro Canale Instagram E noi ci vediamo Alla prossima Ciao ragazzi